Saverio, ci hai detto da Venezia che Finalmente l'alba è un film che guarda verso il caso Montesi, ma poi è un gran film sul cinema. Come legano queste due cose? Forse perché la suggestione è felliniana in principio, nel senso che la ragazza vestita di bianco che sulla spiaggia dell'ultima scena della dolce vita prova a parlare con Marcello che però non la sente, per Fellini era Vilma Montesi, che era già morta e che per questo motivo non poteva essere ascoltata da Marcello. Allora, se è vero che Vilma Montesi, a quello che dice Fellini, fu la fine dell'innocenza di un'epoca e perciò la fine dell'innocenza di un paese, mi sembrava interessante dialogare tra il passato e il presente, cioè, e mi piace pensare che il personaggio di Lilli, la diva degli anni 50, che è costretta ad assecondare l'aspettativa che gli uomini avevano verso di lei come diva degli anni 50 e perciò era costretta ad assecondare il loro desiderio a quello che loro si aspettavano per avere la libertà e il potere di fare ciò che voleva, comunicasse con una ragazza in fondo di oggi perché alla fine del film è come se il presente si prende il suo spazio rispetto al passato, io immagino che la fine del film sia oggi. Lilli James, lei è attrice giovanissima, che fassino esercitano a un'attrice come lei? Oggi, le dive di quel periodo lì. Ho sempre avuto una fascinazione del cinema di quel tempo. Per me c'è tanta bellezza, sensualità, misteria, tutto ciò che mi piace del cinema e la storia senta epica e anche i caratteri sentono molto ricchi. Quindi ho guardato molti film da quel tempo e ho studiato, e ho guardato molto a Joan Crawford. E credo che mi sono fascinato in questa storia la differenza tra l'acto di Diva e chi ha dovuto giovanciare in order di succedere e demandare il respetto versus the inner life. Come ti chiami? Mi lo sa. I was looking for you, and then I found you. You need a rebel. Saverio Costanzo hai parlato prima di cose felliniane. Io l'ho visto, c'è molto fellini. Qua, centrandolo su un fatto di cronaca, su un femminicidio in realtà, poi noi dovevamo essere... Sì, viaggiavamo, è come se ci porta, tutto ci porta in quella spiaggia, dove c'è un corpo morto, da cui diciamo c'è, e tutte le volte ci costringiamo ad andare altrove con l'immaginazione per uscire da quella realtà. Perciò è più una lotta tra il desiderio di essere fellini e la consapevolezza di non esserlo. Parato di femminicidio, cosa che era il caso Montesi, ma ci sono moltissimi personaggi femminili sia in questo film ma anche in altri tuoi film. Hai voluto dire qualcosa di definitivo sulla condizione della donna oggi? No, di definitivo io affermo poco, il dubbio mi guida sempre, però io ho avuto un'educazione matriarcale e di conseguenza io come maschio sono sempre stato quello sbagliato e ho imparato in questo modo a, secondo me, sviluppare una parte femminile, la mia parte femminile, quasi di più di quella maschile, proprio per questa condizione educativa molto femminista e io mi trovo più a mio agio a raccontare personaggi femminili perché mi sento più, mi sento che è un viaggio molto più avventuroso, sorprendente, inaspettato, dove io posso tra l'altro imparare anche di più da maschio. E passando a Rebecca Andonacci, Rebecca tu qui sei la protagonista in questo finalmente L'Alba, è il tuo primo film, sei direi quasi la protagonista assoluta, che tipo di esperienza è stata diventare questa ragazza così giovane, così ingenua, ma con questo grandissimo amore per il cinema? È stato, mi sento veramente fortunata perché non solo è stato un bellissimo, insomma, iniziare nel mondo del cinema che in realtà era quello che avevo sempre sperato di fare, però è stato pure bello perché ho iniziato con un progetto che mi stava veramente a cuore, cioè quando ho letto la sceneggiatura, cioè ho fatto proprio wow, cioè è veramente una bella storia e un personaggio meraviglioso che devo assolutamente proteggere in qualche modo e quindi no, mi sento veramente fortunata, sono felicissima, veramente. Grazie a tutti.